Anch'io la prima volta che sono andata al cinema facevo come te. E poi? E poi niente, mi sono divertita Marta. Senti, io vado un attimo al bar, aspettami qui, ok? E se non mi piace, se mi annoio. Ci vediamo dentro, eh? Ok, vedrai che ti divertirai. Claudia. Marta? Sai il mio nome? Biglietto? Ne ho uno migliore. Buona visione. Claudia, dove sei? Senti, sì, sì. Facci le belle sono a tutti. Mi voglio camminare. Belle belle. Sì, è fatta. Oh, oh, oh. Vieni venire. Babbozelle. Lei qui può fare qualsiasi cosa. Oddio. Ragazzi, reggi un po' qua. Pardon, permessa e levate. Eccolo il sacchetto. L'ho preso la bambina. Fermati, è un ordine. Mamma. Mi non si è fermata. Anzi, più veloce l'hai fatta andare. Forse è un ordine. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ambroglione. Lissi! Vieni, vieni. Vieni, vieni. 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 Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Stop, stop. Gastone. Sì? La bambina che c'entra, non è dopo? Alla scena dopo? Hai ragione, vero. Vado a controllare. Allora? Ti è piaciuto il film? Che? Oh, ti è piaciuto? Assurdo, c'era questa lisica che mi ha dato un sacchetto con dei gioielli. Poi sono consentita per questa piazza. Tutti mi aiutavano. C'era la tigra che faceva a volte. E pensi che era fare la voglia. E si è fermata perché l'ho fermata io. Vabbè io. Non capisco. Perché sembra tutto così, vero? Signore, calmati, è normale. È la magia del cinema. Magna. Psst, Marta. Pensi che io ho ancora le tue siane. Oh, popcorno. Ho una bella connetta mammellata. Mamma Melloda. Eh? Partecipa anche tu a Cinema in Festa. Dal 18 al 22 settembre. Tutti i film a 3,50 euro in tutta Italia. Info su cinemainfesta.it Ciao. Grazie a tutti.